Buonasera amici di Volumbrite e bentornati dalla Salute in Comune. Siamo qui con l'AGD, Associazione Aiuto Giovani Diabetici, per presentare la loro associazione. Siamo qui con Luca, Davide e Ivan. Buonasera. Comincerei con il presidente dell'AGD chiedendogli quali sono le vostre finalità e gli scopi dell'associazione. La nostra associazione, l'AGD Piemonte Valle d'Aosta, è nata nel 1975, quindi sono quasi 40 anni, ed è nata per volontà di genitori, di bambini e ragazzi con il diabete. È nata in collaborazione con i medici dell'ospedale infantile Regina Margherita di Torino. Torino è tutt'oggi un centro di riferimento in Italia per la gestione del diabete in età pediatrica. Le finalità dell'associazione sono di due tipi fondamentalmente. La prima è quella di dare diffusione alla patologia diabetica. Il diabete di tipo 1, a differenza di quello che interessa gli adulti, che è di tipo 2, è una patologia autoimmune che è cronica. Cioè quando il bambino o l'adolescente scopre di avere il diabete, o anche la persona adulta scopre di avere il diabete, allo stato attuale delle conoscenze lo porterà avanti tutta la vita. Quindi non ci sono soluzioni al diabete, però ci sono modalità di gestione che garantiscono a tutte le persone che hanno il diabete di condurre una vita assolutamente normale, con il rispetto di alcune regole, che sono le stesse che dovrebbero seguire tutte le altre persone, e che quindi danno modo a tutte le persone che sono in questa patologia di affrontare esattamente le stesse cose che affrontano gli altri. Quindi la nostra associazione ha il compito di rendere nota a tutta la popolazione questa situazione. La seconda grossa finalità dell'associazione è quella di dare supporto alle famiglie che si trovano coinvolte nella gestione del diabete. Quando il diabete arriva in un bambino o in un adolescente, è tutta la famiglia che si trova coinvolta, perché i genitori in molti casi sono costretti ad abbandonare il posto di lavoro, prevalentemente le mamme, perché devono seguire il bambino nelle varie fasi di crescita. La scuola in molti casi non è preparata sufficientemente per essere autonoma nella gestione del bambino, per cui le famiglie si trovano in difficoltà non tanto economiche e finanziarie anche, ma molte volte è una difficoltà emotiva, una difficoltà relazionale e sociale. Quindi l'associazione ha proprio il compito di supportare le famiglie spiegando le modalità con cui il diabete può e deve essere gestito, proprio perché il nostro obiettivo è garantire ai nostri figli, ai nostri ragazzi, ai giovani di oggi la possibilità di essere adulti, consapevoli e assolutamente autonomi e apportatori di forza per la società di domani. Questo è l'obiettivo. Ok, a proposito di famiglie vorrei chiedervi a Luca quante sono le famiglie che si rivolgono a voi ad oggi, quante sono e quali problematiche dovete affrontare insieme a loro? Allora, le famiglie, il Regino della Margherita oggi segue circa 600 bambini, quindi ovviamente le famiglie sono tante, uno dei nostri obiettivi ed è per quello che cerchiamo di renderci visibili nelle manifestazioni che ci sono e appunto raccogliere il maggior numero possibile di persone, proprio perché lo scambio di informazioni, l'unione, il ritrovo, lo scambio di esperienze per noi è fondamentale. Ovviamente è fondamentale anche raccogliere le famiglie perché si riesce appunto ad avere poi un impatto diverso quando si parla con le scuole, quando si parla con le associazioni e quando si va in giro a far sentire la nostra voce. Come diceva appunto Ivan, è fondamentale per noi come dire, creare la cultura dell'aiuto e del sostegno per i nostri bambini. Quindi, ripeto, la cosa principale per noi è seguire i bambini, aiutare i bambini, sostenere i bambini in tutte le fasi della crescita, quindi dalla scuola all'attività sportiva all'inserimento proprio nella vita normale dei nostri bambini. Direi che queste sono le cose fondamentali per la nostra associazione e l'unione delle famiglie appunto. Un'ultima domanda a te Davide, vorrei chiederti se avete dei progetti in corso e se ne avete tanti il più significativo. Sì, faccio soltanto un breve introduzione prima di passare ai progetti perché, a differenza di Luca e di Ivan, io non ho un figlio diabetico ma sono io in prima persona ad essere diabetico. Da quando mi è stato riscontrato a 18 anni, sono passati altri 22 anni con tutte le fatiche di fare 4 iniezioni al giorno di insulina e cercando faticosamente di regolare la mia glicemia in tutti quanti questi anni. Io lo faccio con coscienza, immagino la fatica di un bambino che non ha completa coscienza di una cosa di questo genere e le difficoltà da parte di un genitore nel regolare la glicemia del proprio figlio. Fatta questa introduzione, doverosa, una delle attività che io in prima persona sto cercando di seguire è quella di una squadra di calcio che è formata sia da persone diabetiche in prima persona come sottoscritto che da genitori di bambini diabetici in maniera tale da cercare di diffondere il problema informare tutte quante le altre persone perché penso che questa sia una tra le cose più importanti per una persona diabetica, cioè informare, dare informazione di quello che è il diabete in maniera tale che tutti possano aiutarci a un giorno risolvere questo problema e nel frattempo con la conoscenza supportare questo tipo di patologia. Stiamo cercando appunto di portare avanti questa squadra a fare degli incontri di beneficenza con altre squadre e questa è una delle attività che sto seguendo. Ovviamente non è solo questo lo scopo ma è anche quello di far giocare delle persone e diffondere quello che è il concetto di sport soprattutto nelle persone diabetiche che è una tra le cose fondamentali per cercare di migliorare, di mantenere negli anni un controllo glicemico che è fondamentale per questa patologia. Quindi grazie all'aiuto dell'associazione AGD abbiamo formato questa squadra e la stiamo portando avanti in questo momento. è una bella idea anche perché per i bambini lo sport oltre che un passatempo è anche un modo per affrontare una malattia che purtroppo sappiamo che è tosta. Bene, io vi ringrazio per questa chiacchierata il tempo purtroppo è finito e auguro a tutti una buona serata e una buona salute a tutti. Grazie Grazie Grazie